buongiorno weekend benvenuti a questa ultima puntata per questa settimana di buongiorno weekend ormai è l'appuntamento fisso con il fine settimana quel periodo bellissimo della settimana che però vola in un attimo e quindi affrontiamolo con più consapevolezza vi daremo diversi spunti perché oggi è domenica quindi buona domenica sono le 9 e 4 minuti e noi siamo già prontissimi vi daremo diversi spunti per affrontare la domenica parleremo di informazione ovviamente di cucina di tante tantissime cose soprattutto di cultura lo faremo grazie a voi alle vostre interazioni quindi io vi ricordo 342 627 5717 memorizzate il numero se non l'avete ancora fatto e scriveteci perché ci piace ricevere i vostri messaggi da tutta italia in effetti arrivano dalla calabria al nord dall'est all'ovest ovunque voi siate scrivete che state guardando buongiorno weekend anche soltanto per dire ciao ciao da taranto così quindi mi fa piacere ricevere i vostri messaggi ovviamente il primo che lo manda vince un premio non so ancora qual è il premio però ve l'ho detto ci piace dire che vince un premio un caffè un caffè pagato da buongiorno weekend ovviamente scrivete per interagire anche con gli ospiti ieri avete scritto le domande al dottor andrea sant'arcangelo potete farlo ovviamente anche oggi perché poi noi raccogliamo tutti i messaggi anche durante la settimana e poi li rivolgiamo ai nostri ospiti ovviamente oggi è domenica e lo so che voi starete già pensando al pranzo anche se state mangiando facendo colazione mangiando cornetto e cappuccino però che cosa mangerete oggi in questa domenica siete in compagnia siete in famiglia siete da soli state facendo una scampagnata farete una scampagnata diteci che cosa farete in questa domenica noi intanto iniziamo con buongiorno weekend perché le cose da dire sono tante e iniziamo subito con gli ospiti di oggi ecco aspetta è arrivato il premio e ci sono arrivati i saluti ciao ciao cisco grazie va bene va bene francesco da velletri grazie mille è arrivato il premio un caffè pagato da buongiorno weekend francesco da velletri allora anche dalla vabbè dopo vi saluto tutti intanto presentiamo gli ospiti perché inizieremo buongiorno weekend parlando di anziani più informati più protetti lo faremo con miriam severini che è la vice presidente nazionale di feder centri affronteremo questo importantissimo tema perché bisogna informare per prevenire anche e curare poi ovviamente domenica e quindi si mangia quindi ci sarà cristiano sabatini conosciuto sui social come lo chef bike e ci porterà in giro per il mondo insieme in sella la sua bicicletta ma soprattutto facendoci assaporare dei piatti incredibili dopo di che c'è la regina delle stelle e non solo paola aspri che ci presenterà il podio dello zodiaco ma soprattutto tutti i personaggi up and down della settimana chissà chi rovinerà perché paola aspri l'ho detto l'ho detto lo dice l'ha detto concludiamo con la cultura ritornano i ragazzi di book rider a consigliarci tre letture tre letture incredibili che vi sfidiamo a leggere ad affrontare nel corso delle settimane con buongiorno weekend questo è tutto io saluto francesco da velletri che subito ci ha scritto e anche buongiorno weekend da michela che però non dice dov'è quindi grazie michela grazie francesco da velletri continuate a scriverci adesso io mi apropinco sul mio bellissimo divano perché accolgo ho il piacere di accogliere la prima ospite di buongiorno weekend l'abbiamo detto è miriam severini ed è in collegamento con noi buongiorno miriam buongiorno a voi buona domenica buona domenica miriam che cosa mangerai oggi sono rigorosamente a dieti no meno del nulla no vabbè ma dopo il sabato dopo il sabato la domenica bisogna come dire frustrarsi i danni che si fanno il sabato sera va bene va bene quindi insomma forse mangerò del pesce forse mangerò del pesce salutare però ci sta la domenica ci sta anche il pesce allora miriam severini questo off topic rispetto al cibo però è anche importante in realtà perché capiremo nel corso di questa chiacchierata che è anche uno dei temi che bisogna affrontare con le persone anziani miriam è la vicepresidente nazionale di feder centri che in questo periodo sta attuando una campagna molto importante di cui poi parleremo però miriam la prima cosa che mi chiede mi viene da chiederti è che cos'è feder centri allora feder centri è una federazione che raccoglie come viene istintivo già che comprenderlo dal nome centri sociali anziani e associazioni che fanno riferimento alla terza età e cerca di coordinarli di stimolarli di dare un supporto a tutto tondo a questi questi nuclei organizzati di persone anziane che in italia soggiornano nei luoghi più vari cioè nei luoghi istituzionali luoghi privati nel senso che ci sono centri che afferiscono ad esempio agli enti locali ai comuni ce ne sono altri privati che si autogestiscono diciamo che noi facciamo da collante con questi centri e cerchiamo di offrire loro un supporto a tutto tondo che va dalla educazione sanitaria che va dalla tutela della salute che va come supporto per iniziative culturali insomma tutto ciò diciamo che possiamo fare per loro ecco centri non soltanto centro anziano ma mi viene in mente anche proprio la parola centro c'è la persona anziana al centro di una comunità che spesso e volentieri invece li mette da parte cioè è abituata a non centralizzare l'anziano nelle nostre alcune volte non sempre fortunatamente è così guarda dio questa no io su questo argomento sarei un po più ottimista nel senso normale e l'età l'età diciamo anziana la terza età è purtroppo divisa in varie come dire io richiamo infazioni ci sono gli anziani che sono nonni a tempo pieno che quindi continuano ad occuparsi della famiglia che hanno un ruolo iperattivo nei nuclei familiari quindi diciamo che soffrono non sono emarginati ecco diciamolo così poi ci sono gli anziani più soli o comunque con più tempo a disposizione che possono far riferimento ad attività di volontariato a centri sociali che quindi possono in qualche maniera attenuare eventualmente la loro solitudine poi ci sono gli anziani emarginati e purtroppo dietro l'anziano emarginato c'è una terribile realtà che è quella delle loro economie tanto più si è poveri tanto più si tende all'immarginazione perché redditi bassi condizioni di vita ovviamente difficili portano anche all'emarginazione volevo però dire questo che afferiscono ad esempio a federcentri molte strutture comunali che offrono anche persone con modeste possibilità lo spazio per un pezzo di vita ricreativa quindi io invito tutti a rivolgersi ai propri comuni per avere l'elenco dei centri che si occupano di anziani oppure anche sul sito di federcentri noi possiamo fare da supporto per questo e troveranno una spalla su cui piangere e anche un braccio che li accompagna nel loro percorso dobbiamo essere un po meno meno depressi rispetto cioè la terza età è un pezzo della vita si può vivere molto male ma si può vivere anche molto bene quindi noi essendo degli ottimisti propendiamo a quelli che la vivono molto bene assolutamente io sono d'accordo perché appunto è proprio quotidiano vedere in realtà una nuova giovinezza nel momento in cui in realtà poi si entra nei sessanta e più anni in realtà ci sono tanti giovani anziani che vivono la vita in maniera anche più attiva di di noi trentenni 35 anni che alcune volte si auguriamo è vero questo è sicuro sì 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 è assolutamente vero personalmente poi papà da quando è andato in pensione è rinato quindi ho rivisto proprio in lui una una rinascita vera e propria da un punto di vista mentale ma anche fisico quindi in effetti questi anziani sono anziani ma non non troppo adesso si arrabbierà che io l'ho rinominato anziano però insomma sono over sono over over scusa questa è un'espressione vietatissima ecco qua sono over 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 a proposito di over a proposito di over è importante informarli ok informare loro informare le persone che si occupano di loro anche perché dal covid siamo usciti ma non troppo in realtà perché ci sono diverse persone che soffrono di patologie croniche e proprio su queste patologie forse si può accanire in maniera diversa il covid anche se adesso è un po cambiato in realtà bisogna ancora informare a che livello siamo di informazione ma soprattutto di numeri di persone over con queste patologie dunque noi abbiamo avuto il privilegio devo dire di poter fare questa campagna più informati io ho partecipato personalmente a una serie di eventi ovviamente a quelli in abruzzo perché io sono abruzzese e e vi confesso che ho osservato con stupore che i nostri anziani sono momenti più informati di noi nel senso del covid sanno tutto ma in questo momento vivono una sorta di step dove tutte le loro informazioni sono andate in tilt perché non hanno chiaro se il covid è ancora un problema o se il problema è risolto quindi qual è il nostro ruolo e perché stiamo entrando diciamo nelle loro case anche se le loro case sono un'espressione simbolica perché i nostri anziani non capiscono ad esempio se è necessario fare un'ulteriore dose di vaccinazione quali sono le condizioni che stimolano a fare questa scelta noi in italia abbiamo 14 milioni di malati cronici ai quali è vivamente consigliato di fare un'ulteriore vaccinazione ma io ho visto che la presenza dei nostri medici in questa struttura è stata una sorta di panacea perché più che essere il medico ad informare si stanno sviluppando rapporti così empatici per cui il rapporto è b2b cioè nel senso parlano alla pari e anzi mi diceva un amico medico che loro qualche volta sono in imbarazzo in queste situazioni perché gli anziani li guardano e col dito indice gli dicono dottor ma io ho visto su su internet che non è così quindi loro mi dicono che sono sempre un po perplessi e pronti alla risposta perché altrimenti li pigliano pure in giro però vi garantisco che questa sorta di compensazione tra anziani e medici è uno spettacolo esaltante che io non ho visto in altre occasioni nonostante io faccia questi diciamo interventi da tanti anni e serve per chiarire una serie di dubbi che ognuno di noi ha perché non sono solo gli anziani poi ad avere questi dubbi eh no perché è vero che gli anche un cinquantenne che ne so cardiopatico deve riflettere se fare una dico cardiopatico perché la prima cosa che mi viene in mente deve riflettere se occuparsi del covid ancora o considerarlo superato il covid non è superato è un problema attuale è ovviamente meno grave di quanto lo fosse qualche anno fa ma è un problema da affrontare e quindi come fare o parlarne con i medici di base ma i medici di base sono sicuramente super affollati di competenze e di obblighi e quindi noi io dico abbiamo avuto il privilegio di avere questa apertura e di poter intervenire ovviamente a livello informativo nei confronti dei nostri anziani che escono da questi incontri dire contenti e poco dire contenti e questo ci si è gratificano molto moltissimo sollevati e con qualche chiarimento in più rispetto ai propri dubbi in effetti perché la prevenzione e anche la cura parte proprio dall'informazione è l'ignoranza che poi ci permette di compiere errori e di mettere a rischio anche la nostra vita quindi Federcentri sta organizzando più di 50 convegni in tutta italia proprio per informare siete partiti da da bologna e continuerete in tutta italia continueremo in tutta italia e ci sono stati incontri assolutamente esaltanti devo dire adesso lasciatemi essere un pochino presunctosa perché essendo abruzzese e anche pescarese vi dico che il centro di pescare è quello che ha fatto il maggior numero di presenze sono stati quasi 150 e ieri c'è stato l'ultimo incontro che io conosco a Corciano cioè Perugia presso la sede della misericordia anche questo è un traguardo perché questi connubi sono particolarmente prestigiosi e il 12 ci sarà il prossimo evento a Eboli poi non mi chiedete quelli che seguono andateli a vedere sul sito di Federcentri perché sono un'anziana anch'io e quindi qualche colpito non ha detto di no però hai detto Miriam over al massimo over 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 sì perdono perdono mi sono sbagliato però appunto 50 conveni in tutta italia al prossimo ad Eboli però in giro per tutta italia potete trovare assolutamente sul sito federcentriaps.it tutte le informazioni di questa iniziativa e anche ovviamente delle altre belle che fate Miriam è importante appunto anche in questo momento di incontro anche proprio quella socialità che è importante nelle persone over si ha sempre un po' paura a parlare di malattie o comunque di salute in realtà bisogna informare e quindi è importantissimo stare vicino ad un'altra persona che probabilmente ha gli stessi acciacchi nostri e quindi sentirsi anche anche soltanto per sentirsi un po' sollevati ci sono importanti queste iniziative sono importanti queste iniziative e qualunque elemento di convivialità soprattutto tra gli over è un valore aggiunto perché ci si scambiano gioia ma ci si scambiano anche dolori soprattutto dolori e quindi c'è la la solitudine del malato anziano è una delle situazioni peggiori che si possano vivere anche perché diciamo la verità i rapporti familiari si sono abbastanza sfaldati il più delle volte un anziano che ha dei piccoli disturbi diventa un elemento di fastidio in famiglia perché ai 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 mi fa male la stiena e ai ai mi fa male la testa in genere le famiglie non hanno neanche il tempo di seguire queste situazioni la nostra sanità diciamolo insomma qualche colpetto lo perde non riusciamo a dare risposte efficienti quindi il valore della convivialità se anche intriso di elementi formativi e informativi è un valore aggiunto quasi sostanziale vedete io ho notato quando vado nei centri sociali mi capita abbastanza spesso l'ultima volta l'altro ieri giovedì c'era una signora molto anziana che mi diceva dottore ma lei lo sa che per noi questo post per la vita e io capisco è la vita è la vita perché io vi invito a visitare questi luoghi e vedrete un'altra umanità che è un'umanità che ha una grande voglia di vivere una grande aspettativa in termini di vita e che ha bisogno di luoghi dove esprimere questi sentimenti e quindi questi luoghi aggregativi che io spero diventino moltissimi in italia non costano molto quindi insomma invito anche chi nello stato in generale per stato io intendo stato centrale stato locale può dare un contributo in tal senso lo faccia perché un anziano informato un anziano sereno è un anziano più sano che quindi costa meno in termini di salute allo stato cioè la depressione della terza età se viene gestita significa che le persone si ammalano meno gestire un centro sociale costa pochissimo gestire dieci o cento o mille giorni di ricovero in ospedale costa moltissimo ed è un ragionamento elementare non ci vuole molto a comprendere ci vuole una propensione verso queste soluzioni è vero di recente visto una serie team su netflix le zone blu ovvero le zone in cui c'è una massima concentrazione di centenari e tra le ricerche hanno studiato proprio il perché in queste in alcune zone del mondo ma completamente distanti dalla sardegna all'america dalla giappone all'europa completamente distanti ci sono degli elementi comuni e tra questi c'è proprio la convivialità l'anziano non è lasciato solo non è in uno spizio è in famiglia il più possibile o in ogni caso se non è in famiglia ma comunque ha un gruppo di amici a un delle persone con cui parlare con cui stabilire dei rapporti e soprattutto si sente utile utile alla comunità e nonostante la grande età continua ad avere un obiettivo nella vita cioè io devo anche soltanto aggiustare le calze a mio figlio mio nipote al mio vicino o realizzare l'opera d'arte con il legno insomma è sempre qualcosa che accomuna e soprattutto fa vivere a lungo quindi assolutamente ben vengono questi questi centri ma bisognerebbe addirittura consigliare a una certa età di andare a vivere nei paesi ma questo perché perché il paese è tutto sommato una famiglia allargata cioè uscire di casa e trovare il vicino con cui scambiare la quotidianità è un grande elemento di forza cioè le nostre vecchie famiglie erano quelle è ovvio che nelle città metropolitane tutto questo è estremamente complesso da realizzare c'è una persona anziana che vive a roma sicuramente non è la stessa che vive in un paese di 500 abitanti quindi perché i centri sociali perché noi insistiamo tanto perché cerchiamo con qualche elemento di presunzione e di sostituirci ai nuclei familiari cioè di ricreare quella socialità che abbiamo perso perché purtroppo quella è stata persa e insomma credo anche che non tornerà per ragioni oggettive insomma lei a che ora è uscita stamattina per andare a lavorare oggi sono fortunata perché a roma è deserta alle 7 del mattino però di solito un'ora ci vuole per andare da una parte all'altro io sarebbe esatto io frequento abitualmente roma e insomma mi rendo conto che è diventata una città dove è impossibile comunicare è impossibile se non in uno stesso stabile ma insomma altrimenti ognuno sta a casa sua e niente prega il dio che qualcosa accada se è vero è anche triste il fatto che non si conoscano non tra tra vicini di casa nello stesso pianerottolo spesso e volentieri non si scambia neanche solo il saluto per educazione però non sappiamo nulla dell'altro e quindi non ci se ci sentiamo effettivamente soli insomma miriam sono molto importanti queste cose è bello parlarne anche di domenica mattina alle 9 quindi grazie per la tua adesione in questo invito a buongiorno weekend ne dobbiamo continuare a parlare assolutamente e continuiamo quindi invito tutti quanti le persone anziane che utilizzano i social perché ci sono tanti ci sono tanti anziani che utilizzano internet in maniera corretta ad informare per fortuna federcentri a ps.it trovate tutte le iniziative dei federcentri e anche questa più informati più protetti ovviamente anche tutte le persone che si occupano di anziani quindi le famiglie o chi per loro insomma approfittate di questi convegni perché sono assolutamente interessanti e utili grazie miriam severini vicepresidente nazionale grazie grazie e adesso giusto qualche minuto di pubblicità e poi domenica quindi dobbiamo mangiare che famoso lo maniamo è dopo grazie a tutti grazie a tutti